E ora ci spostiamo di nuovo nella nostra provincia, andiamo ad Azzano San Paolo che ha in programma una serie di interventi in via Stezzano. L'arteria stradale è molto frequentata e ha problemi di sicurezza. Da qui il progetto del comune di cui ci parla Davide Amato nel suo servizio. Tra rotatoria e pista ciclabile, il comune di Azzano San Paolo punta la messa in sicurezza dell'intera via Stezzano. Si tratta di un'ex strada provinciale, priva di marciapiede e ciclabile che collega il centro del paese con il frequentato impianto sportivo. È prevista la realizzazione di una rotatoria in questo punto che è stato identificato come il punto più critico in quanto vi è l'uscita di una strada che porta al parcheggio dell'impianto sportivo al centro di raccolta comunale. La rotatoria inoltre è stata anche studiata in questo punto in modo tale anche da escludere eventualmente il traffico veicolare sulla via Stezzano nel caso in cui dovessero esserci manifestazioni sportive che interessano sia la parte principale del centro sportivo che il campo di erba sintetica. L'amministrazione ha conferito un incarico per uno studio di fattibilità per collegare il centro sportivo comunale con il centro del paese attraverso una pista ciclabile in modo tale che i ragazzi e tutte le persone che dal centro paese vogliono arrivare al centro sportivo in bicicletta lo facciano attraverso un percorso sicuro. In ogni caso si presume di intervenire sulla via Stezzano tra il 2022 e il 2023.